In questo intervento parleremo della crisi climatica, dell'emergenza climatica in relazione agli obiettivi dell'accordo di Parigi del clima, cioè limitare l'aumento delle temperature globali entro due gradi rispetto all'era preindustriale e fare sforzi per mantenere l'aumento entro un grado e mezzo. Vedremo la differenza di impatti fra i due scenari che sono molto notevoli, abbiamo dei grossi vantaggi a stare entro un grado e mezzo, per esempio si limiterebbe di molto la popolazione globale esposta a severe ondate di calore, ma anche per il nostro territorio allo stesso modo si limiterebbe l'aumento delle temperature estive che è uno dei maggiori problemi e dei più evidenti. Vedremo anche che cosa bisogna fare, vedremo il percorso della decarbonizzazione, conseguente l'applicazione del accordo di Parigi sul clima che è ancora insufficiente ma che va intensificato e in particolare, stando anche ai temi della giornata della bioarchitettura, l'importanza degli edifici residenziali e commerciali nella riduzione delle emissioni in serra, perché in Italia è uno dei settori che sono in controtendenza rispetto a una tendenza comunque che seppur lenta, seppur da intensificare, di diminuzione delle emissioni c'è, vanno promosse e sostenute sempre di più le iniziative positive.